Siamo a un livello così basso della catena alimentare da stare sottoterra Ma lascerò che siano i colleghi suricati a illustrarvi la situazione Chi va là? Chi va là? Dove guarda? Chi va là? Quando viene la Iena's mamma Via! Una sana scava una tana Nella sana scappa nella tana Una sana scava la tana Nella sana scappa nella tana Nella sana forse di frana